Doc ha chiamato. Terribili forze. Non mi piace come suona. Appena ho un attimo. Siamo pronti, dottor Michaels. Il respiro del diavolo. Si chiama GR27, non... Non importa. Attenti, nelle mani sbagliate può... Non si preoccupi, siamo i migliori. Questo mi conforta. Codice 3... 8-1 in partenza. Prego, dottor Michaels. Che diavolo è? Ci attacca! Portatelo via! Portatelo via! Sì! Sì! Benvenuto, dottore. Vottene! Facciamo noi! Sì, come no. Yuri, sto inseguendo Martelli. Temo abbia preso il dottor Michaels insieme al respiro del diavolo. Ricciamuto. Mando altre unità sul posto. Ha preso Michaels vivo ed è un bene. Forse per fargli produrre altro respiro del diavolo... Ah, devo fermare quel camion. Ho blindato quello che è. Questa è la Sable International. Siamo autorizzati a usare la porta. Non forniremo ulteriori avvertimenti. Ehi, ehi! C'è un'arma biologica lì dentro! A tutte le unità! Fuoco! Ehi, com'è che di colpo tutti sparano razzi? Vottene infatti da parte. Mi sta interperando con l'operazione. Scusa, ma sono contrario all'operazione missile a Manatta. Devo sistemare questi tizi prima di pensare a me. Wow! Ehi, non sparate! Aprite il fuoco! Sable, ucciderai qualcuno! Il giudizio è alle porte! Lui sta arrivando per liberarci dai peccatori! Scusa! Lì! Arrenditi! L'olio dei freddi! Qual è la situazione? L'hai catturato lì? Ci sto lavorando! Questa la prendo io! Che stai facendo? Ti apro nuove prospettive! Ma che diavolo! Devo essere sincero, speravo di portarti qui. Le mie abilità mi rendono persuasivo. Ti ho tenuto d'occhio! Ti aspettavo al municipio! Non ti sei presentato! Dov'è? Reale o immaginario? E' un peccato che siano morti in tanti senza un eroe a proteggerli. Quella gente ti ha salvato la vita, vero? Era qui a causa tua. E Norman voleva usarlo. Un gesto inumile alla fine. E in tutto questo dov'era Norman? Rintanato come un topo. Sapeva cosa sarebbe accaduto ed è fuggito. Norman è una piaga per questa città. Deve essere estirpato. La sua corruzione va eradicata. Norman si nasconde dietro una maschera di menzogne. Ma io mostrerò a tutti il suo vero mondo. Indossa la maschera. Unisciti a noi! Grazie, ma passo! Olete o non olete, ti unirai a me! Tutte le anime perdute! Le vittime innocenti che avresti potuto salvare! Martin! Sei macchiato del loro sangue! Puoi fermare, Oz? Hai la forza per riuscirci. E da me avrai la volontà! I loro corpi si sono accumulati e tu non hai fatto nulla! Non posso salvare tutti! Cos'è una vita? È uno scambio ego. Una vita per le anime di una città. E tu difendi Ozorme che se ne sta sulla sua torre da Mario! Non è reale! Mostrami tutta la tua forza! Mi sia bruciata! Uno scambioege! Numero passare! Quella l'un résulte ti deve diventare! Non è reale! Non è reale! Vuolete solo... Finiamola qui Che meraviglia Prostrati a me Ti toglierò la maschera E svelerò a tutti chi sei Le ombre mi sono fedeli E io donerò loro la forza Cosa stai? Devo distruggerla Non ti abbandonerò alle tenebre, Martin Ti sconfiggerò E annullerò la tua mente Troverò la tua famiglia E ucciderò i tuoi cari Puoi tornare alla luce No! Ehi! Ehi! No, no, no. No, no, no. La cercano tutti. Il Sieru? Perso. De De Scoia! Pensi di essere un eroe? Vuoi salvare la gente, ma procuri solo guai. È colpa tua! Colpa mia? Ma si aspettava a voi? Due, davvero? No! Dobbiamo avvisare subito Osborne. Io vado. Grazie. Me ne ricorderò. Ho una scarsa copertura. Dovrei cercare altre torri da attivare. Yuri, dimmi che hai una pista su Martilli. Abbiamo il video di un tizio in un bar che l'ha ripreso mentre saliva su una berlina nera dopo lo schiatto. Berlina nera. Bene. Fammi finire. Abbiamo parte della... ... ... ... ... ... ... La barca è una delle mie pattuglie ha identificato un'auto compatibile. Una berlina viste in un parcheggio tra Canaan e Hanson. Sei in gamba, Yuri. Vado subito. Spider-Man. Pronto? Mi ricevi? Dr. Michaels, da dove chiama? Ho preso in prestito una radio dalla Sable. Probabilmente rifonderanno il respiro del diavolo nei trasporti pubblici. Aeroporti, terminal, stazioni. Da lì si propagerà come un incendio. Perché la Oscorp sta sviluppando un'arma biologica in città? Non si usano più i bunker nell'Artico. Norman tiene molto al respiro del diavolo. È la sua ossessione da decenni. Il progetto infrange qualunque legge statale e federale in materia, ma a lui non interessa. Se si viene a sapere, può dire addio alla rielezione. Non solo. Sarebbe processato all'AIA per crimine di guerra. Perché? Me lo sta rivelando. Non è colpevole tanto quanto Norman. Sì, senza dubbio. Ma le azioni di lì mi hanno aperto agli occhi. Troppo a lungo abbiamo ignorato i rischi del progetto. Mi fido di te, Spider-Man. Sei l'unico che si batte per la giustizia. Ti prego, proteggi la città dai nostri errori. 10-79. Terroristi mascherati in possesso di una bomba. Servono agenti in zona degli ARC. Passo. Diamine. Niente respiro del diavolo. Devo avvisare Mary Jane. Mary Jane Watson, lasciate un messaggio comprensibile e vi richiamerò appena posso. Che stai combinando, MJ? Stendish sostiene che i demoni cerchino qualcosa a Grand Central. Ma che cosa potrebbe essere? Forse dovrei chiamare Peter e avvisarlo che mi trovo qui. O forse meglio di no. Mi direbbe di tornare a casa e di incatenarmi al conchino. Verrò un'occhiata veloce e poi lo aggiornerò. Il rivoluzionario di soccorso medico Oscorp. Nome in codice M.G. Oscorp. Consente di garantire assistenza immediata. Il rivoluzionario di soccorso medico Oscorp. Crittate i vostri dati con Cerberus Cypher di Oscorp. L'unico algoritmo al mondo. Alla Oscorp crediamo che la miglior difesa sia l'attacco. E quando si tratta di combattere l'inquinamento atmosferico, siamo armati fino ai denti. Il diffusore Gaia rilascia l'atmosfera. Signor Lee? Sarà più semplice per tutti se resti calma e fai come ti dico. Aiuto! Polizia! Stop! Non! A mua! A mua! Rego! No! Oh! No! 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 Ufficio del sindaco Mi passi il sindaco Osborne Chi parla? L'uomo che sta cercando Cosa vuoi? Ti voglio il Grand Central Terminal entro mezz'ora Da solo Non farai versare altro sangue MJ, sto arrivando Sei ferita? No, sto bene Ma fai presto Arrivo prima possibile Ma che ci fai a Grand Central? Ti spiegherò dopo Ascolta Lì sta per diffondere il respiro del diavolo Devi andartene! Non agirà fin quando non sarà arrivato Norman Osborne Quindi era questo il piano di Liffin dal principio Incolpare Norman costringendolo a diffondere il respiro del diavolo Potrebbe avere senso per una mente disturbata Ok ci sono Sto entrando in stazione Devo fare attenzione a qualcosa Sta pattugliando la zona con dei droni Era preparato al tuo arrivo Non preoccuparti Sono nei condotti dell'aria Vedi un punto d'uscita sicuro Ho una famiglia L'angolo sud-ovest Vado subito Se mi avvicino i droni mi noteranno Vedi quel tablet? Controlla i droni Puoi prenderlo? Sì Se tu li distrai Magari senza farti sparare Sono pronto Aspetto te Non fate Ok Sono pronta Arriva Mi sciacca suaua ma Ok Vai Non mi arrendo senza lottare Fermo! Proviamo a calmarci Sono una giornalista Ho una linea diretta col sindaco Osborne Posso fare in modo che arrivi qui in tempo Come? Prima Lascia lo Li chanzen La politica Frecita suaua ma Se sa il Qu'è Che Se sa il Qu'è 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 Stanno arrivando, salta. Non devono vedermi. Bruni, a riparo! Hai quel tablet? Sì. Fatti una mossa. Bene, arrivo. Andiamo, andiamo. Ci sono quasi... T'è fatta! Brava, ora ti porto via da qui. E il respiro del diavolo? A quello penso io. No, siamo partner. Ne parliamo dopo. Queste persone potrebbero morire. Anche tu non lo permetterò. No, ho scelto di essere qui, è un problema mio. Che significa che l'hai scelto? Non mi piace, sono in troppi. Allora inizia a metterli K.O. In silenzio. Ancora troppo vicino. Ha funzionato. Prendilo! Non mi piace, sono in troppi. Allora inizia a metterli K.O. In silenzio. C'è un'altra cosa che mi piace. Ancora troppo... Ha funzionato. Prendilo! Prendilo. Tenta di dividere quel gruppo. Vedo se riesco a separarli. C'è un'altra cosa che mi piace. I partner si fidano l'uno dell'altro. Che significa io mi fido di te? Sì, ando solo a casa seduta al computer. Oh, andiamo! Possiamo pensare a salvare la città per ora? Stendilo. 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 Prendilo. Avanti. Sì, andiamo a salvare la città per ora. Sì, andiamo a salvare la città per ora. Devo superarlo. Sono pronto. Renji, hai di abito, ma? Avanti. Se la città di... Se la città di... Avviate il timer. È la tua occasione. Tieni l'impegnati. Io penso al respiro del diavolo. Sai quello che fai? No. Oh, ok. Il blu è collegato alla batteria. Il giallo ha una ventola. Quello rosso ha un piccolo punto esclamativo. Allora, il primo passo è scollegare i fili dalla batteria. Segui i fili fino all'altra estremità e staccali da quel lato. Allora, scollega i fili dalla batteria. Scollegati. Ok, cosa vedi? Ah, ok. Il blu è collegato alla batteria. Il giallo ha una ventola. Quello rosso ha un piccolo punto esclamativo. Allora, il primo passo è scollegare i fili dalla batteria. Segui i fili fino all'altra estremità e staccali da quel lato. Allora, scollega i fili dalla batteria. Allora, scollega i fili dalla batteria. Che casino. Ok, ho staccato il primo filo. Ora passa al secondo. Cosa? Il timer si è aggiornato a 30 secondi. È un circuito a cascata. Poi tocca alla ventola. Sì, poi l'ultimo. Ma devi sbrigarti. Ok, ora quello rosso. Finito. Se l'hai fatta! Wow! Sì? Ora portiamo in salvo queste persone. Mi servirebbe l'aiuto di Spidey. Ci sei? Giusto! Apro un passaggio! Ma fallo in silenzio. Certo! Bene. Fatti una dormita. Ok, MJ. MJ, ce l'avete fatta? Sì. Sono tutti a sicuro. Ottimo lavoro. Ehi? Sì? Quando avrai finito faremo un discorsetto. Sì. Immagino. Ma prima trova lì... ...e fagli male. Chiunque faccia impuriare MJ ha tutta la mia solidarietà. Spero di non rientrare nella categoria. ... ... Grazie a tutti. 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 Scusa il ritardo. È un brutto vizio. Grazie a tutti. Tutto questo... Saldo un vecchio conto. Così non va. Meglio tenere le distanze. Devo sbrigarmi prima che si riprenda. Si sta stancando. È il mio momento. Devo aspettare l'occasione. Devo aspettare l'occasione. Sei malato. Devi farti aiutare. Ok. Oh no! Oh no! Non... voglio... ferirti! Niente può ferirmi. No, non più. Niente freni? D'accordo. L'ultima volta ha funzionato. Yuri, c'è un cantiere tra la quarantaduesima e la prima. L'area resterà chiuda ancora un mese. Perché? Prossima fermata... il carcere. L'area resterà chiudere. Riportatelo in laboratorio! Davanti! Mary Jane Watson, lasciate un messaggio comprensibile e vi richiamerò appena posso. Ehi, sono io. Se vuoi parliamo. Beh, però puoi scrivere. No, 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 non finita in quel senso! No, 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 no... Sì, ottimo! Meno ottimo. A che deve pensare? Oh, tu dici? Grandioso. Ce l'hai fatta. Lì è diretto a Ratt. Il respiro del diavolo in mano alla Sable. Come ti senti? Come mi sento? Quanto tempo ho per rispondere? Non molto. Le tue bravate si traducono in altre scartocchie per me, ma ci tenevo a dirti. Bel colpo. Grazie, Yuri. Ne avevo bisogno. Per colpa di lì ho trascurato la città. Meglio tornare agli affari dell'amichevole ragno di quartiere. Per aflu. Perforsi. Perfordo. Perfellare agli affari. Perfetto. 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 Già che ci sono, darò un'occhiata al rilevatore trovato da MJ. Dovrei riuscire a modificarlo per rintracciare il carico di Tombstone. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Dovrebbe andare. Mettiamolo alla prova. Dovrebbe condurmi al carico di Tombstone. Tombstone è il padre di tutte le rogne. Una bellaccia indistruttibile e meno l'ombra di uno scrupolo.